Quali sono i look più belli delle sfilate primavera-estate 2023 che abbiamo visto in questi giorni e che puoi prendere come spunto per il tuo negozio di abbigliamento? Andiamo a vederlo insieme! 1. L'abito leggerissimo con i collanti in pizzo, la maxi collana e i biker di Whitton per le clienti che amano mixare i tessuti e creare look unici. 2. Il mini abito a fiori e stivali in camoscio di AZ Factory per le clienti che amano lo stile beau. 3. Il maxi abito di paillettes nere di Valenciaga per le clienti più eleganti. 4. Giacca corta, t-shirt e jeans di Givenchy per le clienti che amano l'everyday chic. 5. Il tubino estivo mini di Hermès. 6. La t-shirt e la maxigonna con le sneakers di Akris per le clienti che amano vestirsi alla moda ma comode. 7. Il maxi blazer come abito di Victoria Beckham perché ormai è un bestseller che non può mancare nel tuo negozio di abbigliamento. 8. Camicia bianca con jeans decorati e clocks. Il look must secondo Dior. 9. Il lupetto second skin sulla gonna in denim a vita altissima di Barbory per le clienti che amano il jeans. 10. Giacca oro e pantaloni viola di Armani. 11. Il completo gilet nei toni dell'arancio di Luisa Spagnoli. Ottimo per le clienti che amano il colore. 12. Il look di primavera con la giacca a quadri di Bottega Veneta resa unico dalla maxiborsa intrecciata. Seguimi per altri tips di visual e di marketing. Ciao!